Abbiamo deciso che adesso dovrei parlare per un minimo mezz'ora. Allora, noi abbiamo pensato di, in questi dieci anni, di darti un piccolo regolino di ricordo di questi dieci. Grazie. Grazie a tutti. Ma non per il diretto di insegnare a pescare, ma per quello che cerchiamo di fare gli elementi di ricordo di questa parte. Allora, la dedica di Ciccaro Marco sono dieci anni, di loro in uno di altri, a volte forte, a volte piano. Ma sempre va avanti. A fermare... A fermare... A fermare... A fermare... A fermare... A fermare... Chissà in quale stazione saremo tra altri dieci anni. Sarà un posto nuovo, bello e accordiente. Tu sarai sempre il nostro capo treno. In un modo che abbiamo fatto garcia. Allora, grazie a tutti. Bravo! 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 Bravo!